Curezza e porte chiuse agli allenamenti dell'Imoco Conegliano sotto lo stretto controllo del Covid manager Pierre Zanardi in omaggio a uno dei più radicati detti dello sport, pochissimo è cambiato nella squadra che l'anno scorso ha conquistato Supercoppa e Coppa Italia e marciava spedita in campionato e in Champions prima dell'interruzione. Il filotto resta l'obiettivo. Adesso c'è voglia di tornare in palestra e di tornare a giocare a pallavolo. Ci sono ancora un po' di incertezze sul come e sul quando si riprenderà. Le ragazze sono vogliose di riprendere alla grande quindi fino adesso sta andando tutto a gonfie vele e speriamo di continuare così. La lunga sosta ha restituito a Santarelli una squadra comunque in ottima condizione fisica. C'era l'incognita di come le ragazze sarebbero presentate agli inizi, invece devo dire che sono rimasto sorpreso perché prima di tutto si sono tenute in forma lavorando in palestra pesi, quindi dal punto di vista fisico erano messe molto bene dal punto di vista tecnico c'era qualche incognita in più, però devo dire che sono andate meglio del previsto e abbiamo già bruciato qualche tappa. Per il gruppo un obbligo morale in più, onorare la memoria di Paolone Sartori, il capotifoso caduto vittima del coronavirus. Per noi era un personaggio importantissimo, insostituibile, è stato il cuore e l'anima per i tifosi e non solo. Per noi è stata una persona che ci ha sempre trasmesso tantissimo. Credo che non sarà semplice per noi tornare in palestra ma torneremo a giocare e proveremo a vincere anche per lui.